Note inconfondibili che hanno segnato la storia del pop americano, del pluripremiato compositore, cantautore e produttore Burt Bacharach. A lui è dedicato il concerto di domenica 2 luglio alle Tori Montanare di Lanciano dall'estate musicale frentana, che propone al pubblico un omaggio al premio Oscar venuto a mancare a febbraio scorso con l'orchestra del trombettista Adriano Iannucci. Il progetto è stato elaborato in collaborazione con l'Associazione Quartiere Storico Civitanova, spiega al TG Maxi il presidente degli Amici della Musica Fedele Fenaroli, Antonio Litterio. Il nostro viaggio nella musica prosegue con la Italian Bacharach Orchestra, che ci propone questo repertorio tutto dedicato al grande compositore americano. Adriano Iannucci con Lidia Conte hanno pensato invece di creare un repertorio tutto dedicato alla musica sofisticata, a volte leggera ma comunque complicata, impegnata, di Bart Bacharach. La cosa bella è che questo appuntamento vede anche la collaborazione con l'Associazione Civitanova, un'associazione culturale del quartiere di Civitanova, che ci sponsorizzerà nell'allestimento delle torri montanare per dare quell'effetto di galà. Una nuova forma musicale, un nuovo approccio alla musica che ci piace fare e che apre la strada a vari e molteplici altri appuntamenti. Molinelli con l'Istituzione Sinfonica della prossima del 15, che ci regalerà Michael Jackson e poi le nostre grandi orchestre.